quella donna adulta nuda è fatta così basta cioè i peli sulle gambe quello che sia sotto la scella quello che sia è quello basta come esistono come c'è la sabbia sulla spiaggia è un dato di fatto è una cosa è quella e basta senza metterci sopra la vergogna o la cellulite o i peli o questo quell'altro cioè nel corpo e basta questo mi ha aiutato tantissimo infatti lo dico ovviamente faccio una serie di trattamenti in materia migliori per la per la carriera però anche un giorno che avrò le tette alle ginocchia non ci arriveranno sempre perché farò trattamenti eccetera per non farcelo arrivare però non proverei nessuna vergogna a stare nuda in spiaggia come quella signora che ho visto da ragazzina perché dovrebbe essere così l'approccio che abbiamo verso il corpo infatti pare che comunque i paesi dove si sta tutti nudi in sauna eccetera sono più felici sì sì beh sicuramente hanno meno hanno meno problemi psicologici legati a quello